Buongiorno Gian Mario e buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare la Scuola regionale dello sport della Sardegna per aver organizzato questa seconda fantastica settimana della Mente in Forma e per avermi invitato e avermi concesso l'opportunità di questa meravigliosa esperienza. L'argomento che tratterò sarà l'allenamento del decision making nello sport. Lo stimolo di analizzare e sviluppare questo argomento è nato dalla constatazione che atleti raggiungono migliori risultati rispetto ad atleti dello stesso livello tecnico e fisico. Questo evidenzia una continua correlazione tra le abilità mentali e la prestazione. Le abilità mentali quindi non sono innate e possono essere allenate continuamente e di conseguenza migliorate. Tra queste abilità mentali troviamo anche il decision making. L'argomento sarà sviluppato in quattro punti chiave e fondamentali. Il primo punto è capire che cos'è il decision making, dandogli prima una definizione specifica e mostrando poi i processi del decision making per capire e conoscere come funziona. Dopo aver capito che cos'è il decision making e aver conosciuto come funziona, nel secondo punto analizzerò come è importante il suo allenamento e perché è fondamentale allenarlo. Infatti applicazioni di programmi di decision making in allenamento portano benefici all'aspetto mentale, all'aspetto fisico metabolico e all'aspetto emotivo. Nel terzo punto verrà analizzata le evidenze scientifiche sull'allenamento del decision making, sottolineando ed evidenziando quali sono i punti salienti e punti più importanti della ricerca scientifica. Ed infine, nel quarto e ultimo punto, mostrerò come si potrà allenare il decision making e quali strumenti si possono utilizzare per allenare il decision making. E passerò dalla teoria alla pratica, parlando di una breve esperienza personale con un ragazzo che segue da circa un anno, sul quale ho applicato le evidenze scientifiche. Io mi chiamo Manuel Favaron, sono tecnico nazionale e preparatore fisico di secondo grado della Federazione Italiana Tennis, ho una laurea in scienze motorie e una laurea specialistica in scienze tecniche delle attività motorie preventive e adattate. Bene, iniziamo cercando di capire che cos'è il decision making. Lo sport e in modo particolare gli sport di situazione definiti come open skill, ad esempio il basket, la scherma, il karate, il tennis, la pallavolo, il calcio, sono caratterizzati da continue decisioni che devono essere prese in brevissimi istanti. Durante la competizione, infatti, le decisioni possono, o la sommatoria delle decisioni, possono influenzare e condizionare in maniera positiva o negativa l'andamento stesso della competizione. Infatti, lo sport è pieno di episodi che raccontano di vittorie o di sconfitte, dove la differenza è stata fatta da decisioni o da più decisioni che hanno consacrato atleti e squadre. A tal proposito, mi viene in mente un esempio al quale sono molto legato, che è la semifinale dei mondiali del calcio del 2006 tra Italia e Germania. Mi ricordo che mancavano pochissimi minuti al termine dei tempi supplementari e il risultato era bloccato sullo 0-0. Tutti ormai pensavano che la partita si sarebbe decisa ai calci di rigore, quando l'Italia ha la possibilità di beneficiare di un calcio d'angolo. Dagli sviluppi del calcio d'angolo, la palla finisce tra i piedi di un giocatore italiano, Pirlo, che decide improvvisamente di fare un passaggio filtrante per un suo compagno di squadra all'interno dell'area avversaria. Questo compagno grosso, trovandosi spalla alla porta e circondato da avversari, decide di calciare il pallone di prima intenzione facendo un gol strepitoso. Questo gol, ma non solo questo gol, ma soprattutto le decisioni di questi giocatori hanno non solo cambiato il risultato, ma hanno cambiato l'andamento dalla competizione. Poi credo che tutti sappiate come sia andata a finire. A tal proposito trovo molto significativa questa frase che dice non esistono scelte giuste o sbagliate, esistono solo decisioni e conseguenze. Quindi ora cerchiamo di capire che cos'è il decision making e cerchiamo di dare una definizione al decision making. Tra le differenti definizioni che ho trovato, quella che secondo me è più completa, più significativa e anche accurata è la seguente, che definisce il decision making o processo decisionale come la capacità degli atleti di scegliere azioni funzionali da un vasto numero di azioni possibili che emergono dall'ambiente per raggiungere un obiettivo specifico. Questa definizione lo tratta da questa review pubblicata nel 2020 che analizzerò nel dettaglio più avanti. Quindi decidere significa scegliere l'alternativa più favorevole tra le opzioni possibili, ma non è detto che l'alternativa che viene scelta può portare ad un risultato sicuro, un risultato ottimale oppure ad un risultato che mi farà vincere la competizione. E quindi non è sempre semplice scegliere, ma non è semplice per il fatto che la decisione è influenzata da variabili come fattori individuali e contestuali, ad esempio la situazione di gioco o il tempo a disposizione per decidere. Oltre a questi fattori individuali e contestuali, aspetti che caratterizzano il decision making e quindi il processo decisionale sono interni ed esterni alla persona. In particolare ci sono la percezione del rischio, ovvero capire se una decisione mi porta ad avere un risultato piuttosto che un altro, mi permette di avere un determinato rischio piuttosto che una minor possibilità di rischio. Oltre alla percezione del rischio ci sono le emozioni, in pratica i giocatori, gli atleti a seconda della situazione che stanno vivendo possono provare paura, ansia, paura di fallire, paura di sbagliare o magari se la situazione è più conosciuta, magari potrebbero provare calma, tranquillità e quindi rispondere meglio alla situazione di gioco e al contesto. Ed infine le esperienze precedenti. Infatti in base a quello che si vive nelle proprie esperienze precedenti, si può trasmettere e si può trasferire nelle successive esperienze, cercando di ricordare quello che è avvenuto in passato. Ma come funziona il decision making? L'atleta è continuamente bombardato da stimoli che provengono dall'esterno o dall'avversario, che però non possono essere recepiti ed elaborati tutti contemporaneamente. Ne deriva che nello sport di situazione l'atleta dovrebbe selezionare solo gli stimoli più rilevanti che provengono dall'avversario e per sottoporli ai processi elaborativi. Schmidt e Lee elaborano tre stadi dell'elaborazione dell'informazione nell'azione motoria. Il primo è l'identificazione dello stimolo che consiste nel riconoscere le informazioni in entrata che provengono dall'esterno. Riconosciuta l'informazione, occorre produrre e poi selezionare una risposta motoria adeguata tra le diverse alternative a disposizione. Una volta che ho selezionato l'informazione, questa informazione verrà passata allo stadio della programmazione della risposta, dove i segmenti motori verranno coordinati per produrre il movimento selezionato. Cerco di fare un esempio per essere più chiaro e semplificare questi tre stadi. Prendiamo ad esempio un giocatore di tennis. Nel primo stadio il giocatore di tennis cerca di riconoscere dall'avversario quale tipologia di colpo sta eseguendo, ad esempio il diritto, il rovescio, come colpirà la palla, oppure che tipologia di palla potrebbe arrivare nella mia zona di campo. Potrebbe arrivare profonda, potrebbe arrivare alta, potrebbe arrivare con una rotazione in top spin, oppure con una rotazione in slice. Dopo aver identificato lo stimolo si passa al secondo stadio, ovvero selezionare una risposta in base a quello che gli stimoli mi hanno fornito. In pratica devo scegliere diverse possibilità di risposta motoria. Ad esempio il giocatore di tennis potrà eseguire il diritto o il rovescio in diagonale, in lungo linea, giocandolo profondo, giocandolo con la rotazione in slice. Una volta che ho valutato le varie alternative, il giocatore esegue l'ultima fase dello stadio, ovvero esegue il colpo tecnico con un determinato modo per mettere in difficoltà all'avversario. Ad esempio nel tennis il giocatore avrà deciso di giocare rovescio in diagonale con la rotazione tagliata e giocandolo in una parte di campo profonda in modo tale da mettere in difficoltà l'avversario. In questi tre stadi bisogna però stare attenti ad un aspetto molto importante e non sottovalutare, ovvero la differenza che c'è tra atleta principiante e atleta esperto. Gli atleti esperti nell'esecuzione delle abilità motorie utilizzano i processi di elaborazione automatizzati che permettono gesti più rapidi ed efficaci ed il gesto non ha uno sforzo così eccessivo, permettendo agli atleti di effettuare più attività contemporaneamente. Nel principiante invece i processi di elaborazione sono quasi completamente impegnati nell'esecuzione dell'abilità tecnica, dando poco spazio alla parte tattica e strategica. Ritornando all'esempio del tennista, l'atleta esperto capirà ad esempio che la palla starà rimbalzando in una zona vicino alla rete, di conseguenza si muoverà per eseguire un diritto in attacco e proseguirà il colpo andando a rete cercando di vincere il punto con il colpo al volo. Mentre nell'atleta principiante la difficoltà starà principalmente nell'eseguire il colpo di diritto in una zona del campo dove dovrà muoversi e dove l'atleta non è tanto abituato a conoscere. Di conseguenza per l'atleta principiante sarà difficile proseguire il colpo andando a rete e giocare il punto con un colpo al volo e magari vincere il punto. Detto questo e conosciuti i tre stadi dell'azione motoria possiamo suddividere il processo decisionale o il decision making in sette step fondamentali. Il primo step è identificare la decisione. Facciamo un esempio pratico. Ad esempio nel calciatore il giocatore vorrà passare la palla all'attaccante della sua squadra. Una volta identificata la decisione bisogna raccogliere le informazioni pertinenti. Ovvero una volta che il giocatore di calcio ha deciso di passare la palla al suo compagno di squadra per permettergli di fare gol, deve raccogliere le informazioni nel contesto, ovvero da quanti avversari è marcato il mio compagno. si trova in una zona di campo vicina o lontana? Oppure è meglio che faccia un passaggio più facile o più difficile? In che zona del campo è messo per cercare di fare questa azione? Il terzo step è identificare le alternative. Ovvero una volta che si è deciso di passare la palla all'attaccante della propria squadra si è capito che il giocatore è posto in una determinata zona del campo, il compagno è posto lontano o vicino, capire quali sono le alternative migliori per fare questa scelta. Ad esempio per quanto riguarda il calciatore decidere se fare un passaggio basso e rasoterra per far sì che la palla arrivi tra i piedi del compagno, oppure fare un passaggio alto per scavalcare i giocatori avversari e fare arrivare la palla con una traiettoria più alta al compagno. Una volta identificate le alternative il quarto step è valutare le alternative, quindi tra le due alternative che ho scelto cercare di capire qual è che mi dà il minor rischio possibile e il miglior risultato possibile. Ad esempio tra passare la palla a rasoterra o passare la palla scavalcando gli avversari con una palla alta, valutare che la decisione che dà più possibilità nella riuscita della decisione è il passaggio a rasoterra per far arrivare la palla tra i piedi del mio compagno. Una volta valutate le alternative scelgo appunto l'alternativa migliore, quindi in questo caso passare la palla al mio compagno rasoterra in modo tale che gli arrivi tra i piedi. Dopo aver scelto il sesto step è eseguire l'azione ed infine l'ultimo step è rivedere la decisione per capire in base al risultato ottenuto se quella decisione va modificata oppure va mantenuta tale perché ho ottenuto un ottimo risultato. Tutti questi step avvengono in brevissimi istanti e devono essere molto fluidi e molto abituati a molto abituati a fare un'azione proficua e un'azione ottimale. Quindi riassumendo il processo decisionale è l'uso delle informazioni fornite dalla propria situazione attuale e questa è combinata con la propria capacità di applicare la propria conoscenza sulla situazione per pianificare, selezionare ed eseguire un'azione oppure un insieme di azioni dirette ad uno scopo preciso. Dopo aver capito cos'è il decision making e perché e come funziona il decision making, è importante capire l'importanza del suo allenamento. Infatti l'applicazione di programmi di decision making all'interno di allenamenti complementari agli aspetti motori, fisici e tecnici, porta non solo notevoli benefici ma anche a risultati molto efficaci. I benefici riguardano fondamentalmente tre aspetti. Il primo aspetto è l'aspetto mentale. Infatti i programmi di decision making permettono agli atleti prima di tutto di migliorare la capacità di analizzare le azioni consentendo loro di prendere la miglior decisione e nel modo più efficace. Inoltre gli atleti migliorano la capacità di selezionare ed elaborare gli stimoli provenienti dall'esterno generando risposte più efficaci e soprattutto più rapide e veloci perché gli stimoli provenienti dall'esterno sono quelli più rilevanti. Ed infine c'è una riduzione dell'affaticamento mentale che è un aspetto da non sottovalutare perché può permettere di avere una prestazione più duratura ed efficiente nel tempo. Oltre agli aspetti mentali i benefici riguardano l'aspetto fisico metabolico. Infatti gli atleti allenando e conoscendo anticipatamente le decisioni da prendere da un vasto numero di situazioni alternative gli consente di ridurre prima di tutto il carico adrenergico con conseguente riduzione e diminuzione del livello di catecolamine presenti. Di conseguenza si rende più disponibile l'ATP per creare movimento ed infine le prestazioni diventano di conseguenza più efficienti e più durature. L'ultimo aspetto sul quale avvengono dei benefici è l'aspetto emozionale. Infatti allenare e conoscere anticipatamente le decisioni da prendere durante una competizione permette di affrontare meglio quelle situazioni dove le emozioni predominanti possono essere paura di fallire o ansia. Tendenzialmente l'ansia è vista con un'accezione negativa ma non è solo questo. infatti l'ansia è un'emozione di base e naturale ed è una risposta fisiologica che permette di anticipare il pericolo, anticipare prima di tutto il pericolo, di conseguenza valutare la situazione e agire nel modo più adeguato. Quindi l'ansia non solo è un aspetto limitante ma può presentare anche una risorsa importante perché prima di tutto ci protegge dai rischi, seconda cosa mantiene lo stato di allerta ed infine migliora le prestazioni. A tal proposito è molto interessante la legge di Yerkes e Dotson o principio della urovesciata che dimostra la relazione che c'è tra ansia e prestazione. In poche parole livelli troppo bassi di ansia compromettono la prestazione ma con l'aumentare del livello di ansia aumenta proporzionalmente anche il livello della prestazione fino ad un raggiungimento ottimale oltre il quale come si vede dal grafico c'è un decadimento progressivo della prestazione fino ad un completo blocco della prestazione nel caso i livelli di ansia e di stress raggiungono livelli massimi. Negli ultimi decenni c'è stato un grande interesse per lo studio dei processi cognitivi e in particolar modo del processo decisionale o decision making. Analizzando la letteratura scientifica ho trovato molti articoli interessanti. Tra questi ho trovato questo articolo anche della professoressa Vickers pubblicato nel maggio del 1999. È vero non è un articolo recente ma ho trovato degli aspetti molto importanti che poi si sono evoluti nel tempo. Ci sono fondamentalmente due aspetti importanti. Il primo aspetto di questo articolo è l'inserimento della complessità e la variabilità dello sport che è presentata all'allievo fin dai primi allenamenti. Dividendo le fasi dell'allenamento della decisione ovvero il decision training in tre step fondamentali. Il primo step è identificare quale specifica decisione deve prendere l'atleta. Il secondo step è definire il tipo di esercitazioni da fare per allenare questa capacità decisionale o meglio capire quali sono le esercitazioni che permettono di allenare nel miglior modo possibile la decisione che deve prendere l'atleta. Ed infine capire quali strumenti utilizzare per l'allenamento della decisione che abbiamo deciso di sviluppare. Il secondo aspetto fondamentale di questo articolo è il passaggio, il cambio tra il behavioral training al decision training. In pratica il behavioral training si concentra tendenzialmente solo sulla componente fisica facendo ripetere molte volte le abilità tecniche ad alta intensità perfezionando solo la singola abilità ed è quasi assente l'allenamento mentale. Mentre il decision training incentra l'allenamento sul saper decidere variando esercitazioni e portando la complessità e la variabilità dello sport all'allievo fin dai primissimi allenamenti. Nel decision training viene data uguale importanza sia all'aspetto fisico e tecnico sia all'aspetto cognitivo. Da questo grafico si nota la differenza tra le due tipologie di allenamenti. Il behavioral training caratterizzato dalla riga tratteggiata ha tendenzialmente un grandissimo miglioramento nel breve termine rispetto al decision training ma come si vede nella seconda parte del grafico nel lungo termine il decision training ha un continuo miglioramento mentre c'è un decadimento incredibile nel behavioral training. Nella letteratura recente ho selezionato due articoli molto interessanti. Il primo articolo è stato pubblicato nel maggio del 2020 e gli aspetti interessanti di questo articolo riguardano tendenzialmente due vie. In pratica gli autori di questo articolo hanno applicato programmi di decision making ad atleti di pallavolo seguendo due vie differenti. La prima via è stata l'applicazione di programmi di decision making legati all'aspetto della memoria e agli atleti sono stati forniti e allenati con video, immagini oppure anche con applicazioni di domande ai video e alle immagini che visionavano. In poche parole questa via permette il miglioramento del processo cognitivo e una partecipazione migliore da parte degli atleti ed è stato visto che gli atleti migliorano notevolmente gli aspetti tattici e strategici. La seconda via invece è stata quella di applicare programmi di decision making attraverso la percezione o meglio attraverso elementi di percezione visiva e di stimoli arrivati dalla ricerca visiva degli stimoli provenienti dall'avversario. Ed è stato notato come l'allenamento del decision training attraverso la percezione e gli aspetti più salienti derivati dalla capacità visiva porta a notevoli miglioramenti soprattutto sulla capacità decisionale e la capacità di anticipazione degli atleti. I programmi di decision making applicati in questo studio variavano dalle 4 alle 13 settimane con una variabilità delle sedute di allenamento dalle 8 alle 26. I tempi della durata del decision making in ogni singola seduta di allenamento variava dai 10 ai 60 minuti al massimo. Queste caratteristiche hanno suggerito che per avere degli effetti considerevoli e significativi nei programmi di allenamento con il decision making sono consigliati allenamento di un minimo di 4 settimane con un minimo di 12 sessioni di sedute di allenamento. Il secondo articolo molto importante che ho trovato nella letteratura recente è questo articolo pubblicato nel 27 maggio del 2020. In questo articolo fondamentalmente sono state seguite tre vie. La prima via è stata la comparazione della capacità del decision making tra giovani giocatori distinti tra principianti ed esperti. Il secondo obiettivo è stata la comparazione della capacità di decision making tra giocatori giovani ma con età diverse. Ed infine l'ultimo aspetto è stato capire quali effetti avesse il programma di decision making nei giocatori giovani. I risultati hanno dimostrato come gli atleti esperti e gli atleti più anziani, tra virgolette, hanno risultati migliori rispetto ai principianti e agli atleti più giovani. Ma nonostante questo l'applicazione di programmi di decision making hanno fatto migliorare notevolmente sia i giocatori più esperti che i giocatori più giovani. Il consiglio, si potrebbe dire, l'aspetto rilevante di questa ricerca è l'adattabilità che gli allenatori possono fare sui propri atleti indipendentemente dal livello e dall'età dei giocatori, cercando di essere più specifici in base alle esigenze di cui hanno bisogno. Dopo aver capito che cos'è il decision making e come funziona, dopo aver analizzato perché è importante allenarlo e quali benefici porta l'allenamento del decision making, e dopo aver analizzato la letteratura scientifica, è importante capire come si può allenare il decision making. Ci sono diversi strumenti per allenare il decision making. Prima di tutto una pratica variabile, ovvero eseguire un'abilità tecnica in diverse modalità. Tornando all'esempio del tennis, ad esempio, svolgere ed eseguire l'abilità tecnica del servizio con velocità differenti, con rotazioni differenti, oppure mirando angoli diversi. Il secondo strumento è la pratica random, ovvero inserire l'abilità tecnica allenata in modi differenti in un contesto di simulazione di gioco, in un contesto di simulazione di partita. Il terzo strumento è ridurre il feedback agli atleti, in modo tale che l'atleta non diventa dipendente dal feedback, ma cerca di migliorare capendo le decisioni che sta prendendo. E quindi rendere l'atleta sempre più indipendente. Un quarto strumento molto utile sono i questionari, ovvero porre delle domande ai propri atleti per cercare di capire se sta facendo una scelta adeguata o meno adeguata rispetto al contesto o alla situazione di gioco. Inoltre ci sono altri strumenti come il video feedback. In pratica l'atleta può rivedere un video e analizzare se ha preso le decisioni corrette e quali decisioni può correggere durante una competizione. Poi c'è l'hard first instruction, ovvero inserire complesse informazioni sia tecniche che tattiche durante gli allenamenti già nelle prime fasi del percorso, perché l'obiettivo non è il risultato, ma è il miglioramento dell'aspetto cognitivo e dell'aspetto decisionale. Ed infine l'ultimo strumento è il modeling, ovvero si analizzano video di giocatori professionisti per cercare di avere un punto di riferimento chiaro sull'obiettivo da raggiungere. Oltre a questi strumenti che ho appena elencato, ci sono degli strumenti recentissimi e in grande evoluzione. Il primo strumento sono le simulazioni con la realtà aumentata. In pratica questi strumenti servono per migliorare l'allenamento visivo degli atleti, senza bisogno di essere per forza su un campo da tennis o su un campo da calcio, dove l'aspetto principale non è il gesto tecnico e l'abilità tecnica, che sicuramente sarà svolta con molta più tranquillità e meno pressione, ma l'aspetto principale è l'allenamento visivo per cercare di recepire gli stimoli più importanti da quello che avviene durante la fase di gioco. Ma lo strumento che sta diventando, che le ricerche hanno dimostrato essere un elemento fondamentale negli atleti di élite è il kwai tai, ovvero l'occhio calmo. In poche parole, l'occhio calmo è una percezione visiva migliorata, che consente all'atleta di eliminare qualsiasi distrazione, mentre pianifica la visualizzazione dell'obiettivo che deve raggiungere. La stessa professoressa Vickers ha sviluppato i suoi studi sul kwai tai e ci sono tantissimi altri autori che hanno dimostrato quanto l'allenamento del kwai tai o dell'occhio calmo possa migliorare la performance e la prestazione, perché gli atleti cercano di eliminare gli stimoli non importanti, ma recepiscono solo gli stimoli più importanti provenienti dall'avversario. Per cercare di mettere in pratica tutto quello che vi ho raccontato, vi racconterò un breve esempio di una mia esperienza vissuta. Loris è un ragazzo che alleno da circa un anno ed è un ragazzo adolescente che ha l'ambizione di diventare un giocatore professionista. La scorsa estate, alla fine di ogni torneo, Loris lamentava il fatto che il suo colpo di rovescio fosse pessimo e che incidesse in modo determinante nel risultato dell'incontro. Secondo Loris però il problema era solo ed esclusivamente tecnico. Quindi il primo passaggio che ho fatto è stato quello di migliorare l'abilità tecnica di Loris, ma perché l'obiettivo era quello di fargli aumentare la fiducia e la stima in quel colpo. Ma sapevo che non sarebbe bastato. Infatti Loris, quando ha ripreso a giocare i tornei, quando incontrava un avversario che insisteva sul suo punto debole, ovvero il rovescio, ritornava ad avere le stesse percezioni e sensazioni di incapacità che aveva provato prima dell'intervento sul miglioramento dell'abilità tecnica. Ed è qui che entra in gioco il decision making. Infatti, l'obiettivo era che Loris imparasse a non farsi dominare dal gioco dell'avversario, ma che decidesse di imporre il proprio gioco avendo un'idea su quello che doveva fare. Quindi il lavoro è stato suddiviso in tre step. Il primo step è stato quello di allenarsi sulla profondità del colpo di rovescio imparando ad utilizzare differenti soluzioni di esecuzione, come ad esempio il top spin, oppure la rotazione in slice, oppure il colpo in diagonale e il colpo in lungolinea in situazioni diverse. Il secondo step è stato quello di capire quali esercitazioni erano più adatte per allenare questo aspetto decisionale. Quindi sono state proposte esercitazioni tattiche, riducendo o aumentando il tempo a disposizione per decidere. Sono state fatte anche esercitazioni con situazioni di punteggio favorevoli o sfavorevoli per imparare a gestire l'aspetto emozionale. Infatti, come abbiamo visto precedentemente, l'aspetto emozionale è un elemento importante per la presa di decisione o il decision making. Ed infine sono state fatte esercitazioni tattiche in diverse zone del campo, perché l'obiettivo era che Loris imparasse a risolvere il problema con soluzioni diverse e in diverse situazioni di gioco. Infine, il terzo step è stato quello di decidere quali strumenti utilizzare per migliorare questa capacità decisionale in Loris. Sono stati utilizzati inizialmente dei questionari. In pratica, ogni volta che Loris giocava una partita di allenamento, gli veniva chiesto se la scelta fatta era più adeguata oppure no. In poche parole, l'obiettivo era trasformare il concetto di giusto o sbagliato nel concetto di più adatto o meno adatto e trasformare l'idea negativa di errore con l'idea positiva di opportunità. È stato utilizzato lo strumento del video feedback. Con Loris si sono viste situazioni di gioco dove lui si accorgeva che durante il video faceva delle cose che in campo non riusciva a percepire e secondo lui erano completamente diverse. Ed infine sono stati fatti degli esercizi sul kwaitai, sull'occhio calmo. In pratica, sulle esercitazioni del kwaitai sono state seguite due vie fondamentali. La prima via è stato chiesto a Loris di fissare la palla nel momento in cui rimbalzava e veniva colpita nel campo avversario e poi veniva colpita dall'avversario e poi fissare la palla nel momento del rimbalzo nel proprio campo e quando doveva colpirla. La seconda via seguita per migliorare il kwaitai è stato quello di far dire ad alta voce a Loris quale colpo stava eseguendo l'avversario e in quale zona del campo avrebbe potuto rimbalzare la pallina in modo tale da migliorare la percezione visiva e cercare di migliorare la capacità di anticipazione in Loris facendogli prendere decisioni più efficaci e nel minor tempo possibile. Ora Loris ha capito che allenare più decisioni gli permette di avere una vasta gamma di soluzioni durante una competizione e ha capito che lo stesso problema può avere soluzioni diverse. Tutto quello che ho raccontato, ho descritto e ho analizzato potrebbe riassumersi con una citazione del grande psicologo cognitivista Young che dice io non sono ciò che mi è capitato di essere io sono ciò che ho scelto di diventare. Quindi qual è il messaggio che possiamo portare a casa? Anche decidere rapidamente può diventare un'abitudine soprattutto se viene allenato continuamente e quando si diventa consapevoli che lo stesso problema può avere soluzioni diverse. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di aver stimolato in voi la possibilità di sviluppare questo argomento potete trovarmi sul mio sito manuelfavaron.it oppure su Facebook con la dicitura Manuel Favaron oppure potete scrivermi al mio indirizzo info-manuelfavaron.it o a contattarmi al mio numero di cellulare. Voglio ringraziare nuovamente la Scuola Regionale dello Sport della Sardegna per questa fantastica iniziativa e auguro a tutti a Kentannos in salute. Grazie! Grazie.